Buonasera a tutti amici e bentornati in un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qua riuniti per fare la reaction e l'analisi alla mia cover di Million Reasons. Nello scorso video abbiamo fatto l'analisi della mia cover di Million Reasons live, se ve lo siete perso tornate indietro al video precedente sul mio canale, e oggi siamo qua invece per reagire ed analizzare la mia cover di Million Reasons, ma quando ho fatto proprio il video musicale, registrata a casa per conto mio, adesso non ricordo se avessi già questo microfono, ma comunque erano cinque anni fa. Se è la prima volta che approdi sul mio canale, io mi presento, sono Francesca, sono una cantante e un'insegnante di canto. Se vuoi imparare a cantare, dai uno sguardo a tutti i miei link in infobox. Puoi prendere lezioni di canto con me, faccio lezioni online in tutta Italia, e tra l'altro c'è una lezione prova gratuita di 15 minuti, dai uno sguardo. Oppure puoi iscriverti al mio Patreon, dove puoi trovare un sacco di contenuti esclusivi, tutti i miei video su YouTube, ma in versione integrale, senza tagli, perché qua li devo tagliare perché sennò mi segnalano per copyright, analisi più approfondite sia a livello tecnico che a livello anche solamente di curiosità, della tecnica vocale, di come studio in una canzone, eccetera. Inoltre trovi tutta la mia libreria degli esercizi di canto, così li puoi fare quando vuoi, dove vuoi, sono già registrati, sia solo piano che con piano voce, e sono super comodi. Dai uno sguardo in infobox perché i prezzi sono davvero super piccolini. E ora non perdiamo altro tempo, lascia mi piace a questo video così so che ne devo fare altri, iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto, e partiamo. Questa cover è appunto di 5 anni fa, io dico 6 secondo me ne sono, eccola qui. Suonata da me al piano, lo alzo un po'. Ah, avevo fatto l'intro. Ah, c'è la chitarra anche. Ah, c'è la chitarra anche. Allora, prima di andare avanti facciamo qualche commento, forse l'emozione. Allora, mi emoziono un sacco, prima di tutto quando entrano i cori. Vi devo dire un sacco di cose. Allora, prima di tutto, questo video è filmato nelle campagne vicino al mio paese. Mi ricordo che c'era freddo per stare con la maglietta maniche corte e la camicia sopra. Parliamone, mi stavo congelando. L'aveva filmato il mio ex, che è mio amico, che potrebbe anche mettere mi piace a questo video, è molto possibile, ciao. E niente, la camicia tra l'altro era sua e ci siamo spaccati dalle risate per fare questo video. Dopo, infatti, guardiamo anche il video dei bloopers, perché tanto sono 5 minuti. E poi cos'altro? Abbiamo fatto tutta l'intro, un po', una storiella, così. La chitarra era la mia chitarra acustica, perché mi ero comprata una chitarra acustica, pura bellina, e poi l'ho venduta, perché tanto se no ne avevo tre, e la chitarra non la suono tipo quasi mai. Mi piacciono un sacco i cori, mi piacciono un sacco i cori. E niente, c'è il piano fatto con la mia tastiera, la chitarra con la chitarra. Non mi ricordo se l'ho registrata con il jack, cioè collegata direttamente, oppure registrata con il microfono. Ma adesso, dalla seconda strofa in poi, entra la batteria, e la batteria l'ho registrata io. Ho semplicemente registrato col microfono il rullante e il charleston, perché io avevo la batteria a casa, acustica, poi l'ho venduta, perché non la suonavo così tanto, mi serviva spaccio, mi servivano soldi. Quindi, provvisionalmente, sono rimasta senza batteria, in futuro me la ricomprerò sicuramente. Però adoro che l'avevo registrata così. Dovevo dire qualcos'altro. Analisi tecnica. C'è una componente di... che sembra un po' sforzo, ok? Questo può essere un colore da dare a livello interpretativo. Posso farlo più... un po' struggente. È ingoiato, perché comunque fa parte del periodo della mia vita in cui avevo il suono ingoiato anche per trattenere il suono. Quindi... C'è questa componente di... Ok, nel suono ingoiato si sente molto in... Lo sento che è nel palato molle Altra curiosità che mi è venuta in mente Questa canzone, se non sbaglio, era una delle prime mie che aveva mixato, appunto, il mio amico RISC. One, two, three It's like in a cycle I look up and I see It's like that I've stopped breathing but completely aware And if you say something that you might have meant It's hard to have been fat I'm worse, but I should believe Cause you're giving me a million reasons Give me a million reasons Giving me a million reasons Vorrei sottolineare una cosa Video filmato con la mia vecchia Reflex Dal mio amico E montato da me Il video Attenzione Gli ho sempre montati tutti i miei video Per cortesia Cioè, vedete come cambia anche il timbro Cioè, cambia il colore della voce Se il suono è ingoiato Sembra quasi che stia sempre sforzando Sembra quasi che sia sempre in apnea I've got a hundred million reasons To walk away E poi, io voglio sempre filmare i video al tramonto Che ingueribile romantica Sentite come è ingoiato Questo A parte che forse avevo anche la saliva Perché, come vedrete nel video dove provo a cantarla Che la sto registrando in un giorno diverso Mi sono accorta che questa canzone È un grosso problema Su dove cazzo ingoiare la saliva E quindi lì faccio Io raga vi giuro Quasi Cioè, non riesco a replicare il suono ingoiato Oggi che non lo faccio più spontaneamente ingoiato Comunque Questo momento è super emozionante del video Per cortesia Godetevelo Io ti ho capito Io ti ho capito Io raga, cioè io piango, ma io voglio che voi lo risentiate Perché per me questi cori di fondo erano la vita e tuttora lo sono Cioè io voglio i cori gospel dietro la mia canzone, capito? Sentite i cori che ci sono E non si sentono abbastanza Non si sentono abbastanza perché ho sempre dovuto fare compromessi L'avevo mixata io questa canzone, non mi ricordo, aspetta, forse c'è scritto Mix, risk, non l'ho mixata io Perché io voglio sempre più cori di voce E lui mi ha sempre detto, sì ma così non va bene No, la voce principale sono i cori, non io Comunque risentiamolo Rettifico C'era, è vero, anche mia sorella mi aveva ripreso Un giorno che ero dovuta tornare a fare delle altre riprese C'è prima di tutto una o due voci che fanno la linea principale del... Ci devo fare un video al riguardo La linea principale del ritornello Perché lì ci sarò io che faccio Quindi ci vuole qualcuno che dica la stessa melodia del ritornello senza queste variazioni in alto Quindi Ok, quindi ci vuole un ritornello che continui ad esserci in sottofondo Poi ovviamente c'era il coro alto E poi ci sono i cori bassi Lord, show me the way To cut through all this one hour ladder I've got a hundred million reasons to walk away When I fell down to pray I try to make the world seem better I've got a hundred million reasons to walk away When I fell down to pray I've got a hundred million reasons to walk away Poi sicuramente sono doppie queste In modo che possa sembrare un coro E cosa c'è dopo, scusa? Ah, c'è la fine Ho fatto l'outro del video Come se mi rendessi conto di qualcosa doveva essere la storia, no? Prendo, chiudo il libro E me ne vado Queste riprese rallentate ma che non avevano abbastanza FPS Un attimo in più per vedere i bloopers No, tre minuti il video Mi spacco Quando vuoi C'è xigillo C'è xigillo C'è xigillo Ha detto qualcosa sottovoce ma non mi ricordo Ha lissiato la tavola Ha lissiato la scivolata La tavola su cui era appoggiata Sto già arrivando Punto La macchina nostra Mi prendo come sorella La città della macchia Qua mi stavo spaccando Perché dicevo ok, turno indietro E lui turno indietro di un millisecondo Io no, no, ancora Allora prima me lo stavo facendo apposta Hai rotto il cazzo Vuoi sbagliare le corde, mi sa? Si vede pure la mia ombra Oddio, si vede la mia ombra Panico Oddio, si vede l'ombra Oh baby, I'm bleeding, bleeding, say La bandiera Eh, la posso farla La bandiera della sigaretta Vai di nuovo Vai di nuovo Vai di nuovo Questi li avevo montati apposta così Vai di nuovo Vai di nuovo Vai di nuovo Ok, vai di nuovo Rifallo Rifallo Non è contento di pisciare in più una tera Io ho messo Io ovviamente che pisciavo un più una tera l'erta No, avertà No, avertà No, avertà No, avertà Io metto stop Che ridere E niente Va bene Fatemi sapere nei commenti Che cosa ne pensate Di questo video E di come la cantavo Se vi siete persi il video Dove commentavo come l'ho cantata live Lo trovate prima di questo Sul mio canale Mi raccomando Guardatelo Perché poi lo confrontiamo Settimana prossima Che uscirà Quello In cui Ve la canto Nel 2023 Per vedere come la canto Oggi Quindi Iscrivetevi al mio canale E attivate la campanella Così non ve lo perdete Ok Lasciate un mi piace a questo video E niente Vi ricordo che In giù in info box Trovate tutte le informazioni Sia per prendere lezioni di canto con me Sia per iscrivervi al mio Patreon Dove potete usufruire Di un sacco di contenuti esclusivi Tra cui gli esercizi di canto Grazie per aver guardato questo video fino a qua E noi ci vediamo al prossimo video Ciao